Ciao collega assicuratore, sono Pasquale Gaterisano e in questo video ti voglio chiedere una cosa e darti un'informazione. Allora, se hai meno di 45 anni e sei iscritto in sezione A dell'IVAS, quindi sei già un agente o hai superato di recente l'esame IVAS per poterti iscrivere, allora bene ti chiedo di contattarmi magari scrivendo un post, un commento sotto a questo post oppure cliccando il link che ti metto qui in descrizione perché avrei da farti una proposta molto molto interessante, si tratta di un mandato di agenzia generale, un mandato full digital, quindi abbastanza, anzi molto innovativo e che potrebbe aiutarti a fare un deciso step di carriera nelle tue attività quotidiane. Quindi se sei un subagente o se sei un produttore ma hai passato l'esame per poterti iscrivere in A e hai un minimo piccolo portafoglio da poter sviluppare, c'è questo per te, questo mandato di agente generale, attenzione, di agente generale full digital, molto ma molto interessante, con degli incentivi, con delle innovazioni piuttosto forti che vorrei presentarti. Quindi clicca sul link che ti metto in descrizione oppure contattami direttamente, i miei numeri sono online ovunque, magari facciamo due chiacchiere e ne parliamo di persone. Questo quanto volevo dirti per oggi. Grazie, ciao.